Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e sono su un mitraglione su un elicottero con Dark Angelus e Akimbo E c'è anche Soul Dante con noi, ci stanno sparendo Ragazzi è un elicottero che ha acquistato Dark Angelus, si chiama il Galaxy e contiene 12 posti Una figata ci stanno sparando, eccolo di fronte, di fronte No perché mi giri? Perché mi sparano Eh ma io non riesco a uccidere nessuno, ma che cazzo vuoi nella loro base Angelo? Ma giri, no siamo morti, buttiamoci, buttiamoci Non siamo morti Io sono quel paracaduto, ciao ragazzi ciao Bella a voi No, mi hanno vestito un furgoncino, mi hanno vestito un furgone Rianimami Soul Mi stai seguendo Soul mi stai rianimando? Akimbo fatti spare sul posto mio Soul mi stai rianimando? Ragazzi però Soul non mi risponde, però ogni volta che registriamo E rianimami dai così non rientro Sono morto E' morto Allora rientro anch'io Grazie Angelo, soldi buttati via perché gli vai in bocca alla base tu Allora, 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 dove andiamo? Dove andiamo? Un altro carro armato, prendo un fettacolo A me mi è crashato Non ho mozzato uno Ragazzi andiamo a conquistare qualche base, che botto che leggo pre Andiamo a... Satellite no, dai Sto curando uno Satellite no, dai Sto chiamo la base di sopra Ragazzi ci stanno attaccando la base, qui dove sono io Ok vabbè dai Da proprio Se venite qui mi sa che difendiamo chi ci stanno attaccando di brutto Morto Sto rianimando uno a terra, non so chi è Buono Ah si Fuori dalla base sono io Attaccano da me in effetti eh Eccoli, eccoli Porca trota quanti sono Arrivando due carro armati Ma che cavolo Ma mi è scappato il mouse Ho lanciato la granata addosso a me Ragazzi ci stanno attaccando Venite Almeno ci becchiamo i punti qua Se difendiamo Eeeh Porca trota fa una kill Ah ma c'è il car armato qui Ecco perché Più di uno in realtà Solo che non gli faccio un cavolo io Non c'ho lanciamissili Ah ma siete qua? Si Ah ok Sopra sopra C'è lui il bestione Sicuro io No L'ho quasi ucciso Sono morto C'è che mi rianima? Io Grande Però non mi esce accetta Questo è curandangelo Ah mi sa che finisci il mana lì il coso L'energia Le batterie Ah ce la fai? Grande Guarda che è sopra Ragazzi è un carro armato eh Sopra 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 Ecco che pareva Sono morto ancora Pareva il tuo mazio Ce la fai a rimarmi o rinasco? No sono morto anch'io Comunque se premia F col medico ti cura da solo Eh lo so però c'erano troppi davanti Adesso non so che rinasco ma Kimbo c'è? Si 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 mi ha ordinato adesso Adesso l'ho riapersono già Sto cambiando equipaggiamento Non vi vedo Non vi vedo neanche sulla mappa Dove cavolo siete? Ah ok c'ho il 3 dietro Chi è il 3? Soul? 3 no è dare chi è solo Possibilissi E nessuno che c'ha un Rimandatemi gli di che devo ripararmi Io io l'ho preso adesso angelo Chi è che devo invitare a Kimbo? A me Ma non ho detto Non posso vedere dove siete Allora Kimbo Accetta Ok vediamo dove siete che mi faccio schiera ora Chi è il 3? Il 3 è Soul Il 2? Il 2 non lo so Divangelo Ah ok l'abbiamo conquistata Ma ci andiamo a piedi nell'altra base ragazzi Ci sono quegli elicotteri che volano Oh raga fermatevi lì a traversata che sto arrivando E me stavo che erano gli elicotteri che strisciavano Ah ma ci arrivano anche dal ponte Occhio Ho visto un paio di cari armati Chi cazzo di elicotteri ci sono qua? In effetti sono tipo Ne vedo 3, 4 Che volano in giro E ci sono anche 3 cari armati là davanti Io non so dove sto andando C'è un cari armato davanti Questo mi ha visto Mi ha visto Non mi ha visto E un macuccio Non mi ha visto Che curo Io seguo Soul Ah ma siete tutti dietro di me Per cavolo sto andando là solo Così pare Occhio Cari armato Angelo 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 No Ce la facciamo Ce la buttiamo giù ragazzi Ce la facciamo Con la mitra Vai vai Che la buttiamo giù Non gli fai nulla col mitra Guarda che gli sta scendendo l'energia Angelo Ma davvero? Guarda Guarda che è morto È scoppiato Che animate Che anima mia Guarda che è scoppiato Ragazzi sta prendendo fuoco Sta prendendo fuoco No sono morto Vai ti copri Gli animali Hai visto Angelo Che sbuo anche con i mitra Non lo sapevo Non lo sapevi O non lo sapevo io No io non lo sapevo Adesso l'ho scoperto Anco io Sicuramente Che storia però No Te ne sei scappato È scoppiato? Sì È saltato in alto Ho c'ho l'aereo Io vedo un liberetto Che sta tipo Un ongax Che sta tipo scendendo Con le truppe Qua davanti a noi Comunque così è una figata Perché Era troppo Solo con lancia missili Buttare i ciclarmati Cos'è? Angelo sta morendo Angelo se arrivo Ti salvo Ci sono tipo tre ciclarmati Che andano verso di noi Via 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 Mi spari una cura A proprio se lo so Lo vedi visto che sono Quattro tacchette di energia Occhio all'elicottero Sì Sono tre carri armati Che attacca Ce n'è uno sopra di voi L'elicottero ragazzi A me non si fanno assolutamente nulla Con i mitra di carro Ma cosa abbiamo noi? Due medici? Un cecchino? Ah no A chi è quello che ripara? Sì l'ingegnere Oh perché non salo? Non salo? Non sali? Non salo? Ok ragazzi Ma se andiamo tutti in base lì Guarda quanti ce n'è Poi siamo su A E andiamo dai Se stiamo qua ragazzi Abbiamo troppi aerei sopra Secondo me Io vado verso A Ah ma stiamo Oh Manu 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 Arcangelo Arcangelo Eh dimmi Guardate sotto A B e C Ci sono tre fazioni eh Eh lo so Qua c'è un macello ragazzi Dobbiamo combattere contro due fazioni E chi è in vantaggio? Staccio dietro Chi è in vantaggio? La nostra Carro 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 Eh non ho capito Mi ha fatto esce Eh a me ma viste come invece Sono morto Ma fa culo Lu E' colpa che ha sparato ci ha fatto a tutti Aia 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 Mi spara mi spara nel culo Ma hanno spara nel culo Mi hanno disciottato proprio Ma tu stai continuando a registrare Angelo Sì sì Guarda che viene lungo poi eh Stoppiamo? Eh intanto manca poco la barra viola Conquistiamo almeno una base E poi stoppiamo Guarda quanta gente c'è qui Ragazzi oggi zero lag comunque Han sistemato i server Aspettatemi Oh mio dio Allora buttiamo giù il carro Comunque devo lanciare avanti Io sto curando nella massa Almeno per gli punti Mi devo curare con la F Bella mi sto curando Sono un po' troppi eh Di questa base Un po' folla dalla zona Vai ho fatto una kill No 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 mi sto ammazzando Sono tutti qua dietro ragazzi a piedi Vai ho furato uno Rianimali tutti almeno fai un bot di eh Eh lo so ok Qua dietro c'è un macello ragazzi All'altra da sinistra ci sono tutti nemici Eh avevo tipo trea da avanti Quello che Ma è conquistato Ho conquistato Un sacco le cose Grandi ragazzi Conquistata? Io sto cercando di Rianimare qualcuno Ah ok Ma hanno mattato allo sponio Capitano cinese Ho una granata Ragazzi sono tutti morti Qua a terra No è rimossa Si comunque è conquistata Dobbiamo semplicemente Pulire la zona Granata Guarda dove sono Sono qua fuori E' arrivata l'altra fazione Ragazzi la terza Oddio c'è un macello C'è un macello Io ho lanciato una granita Al limone Vai altra kill Fatto la doppia ragazzi E' uno che è buggato Vivo ma morto Tutti quanti morti ma vivi Sono morti in piedi Non posso più l'animale Perché? E' finito le batterie Dell'app store E' come si ricarica? Eh con quello che dà le munizioni A quelle cose delle armi E fare le supplies Oh ragazzi Stanno anche da buttare qui Stanno scendendo con Gli ascensorini Del cacchio No ne ho coltellato uno Sono morto Vabbè ragazzi Comunque abbiamo conquistato E vi dico che Da Luke Dark Angelus A Kimbo E Solcevan E' tutto Ciao a tutti Ciao 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 ciao